Siamo molto contenti che la Earth Pact abbia deciso di mandarvi qui in questa stazione di ricerca unica nel suo genere. Questi sono incredibili. Circa un quarto dei campioni che estraiamo dal mare in quest'area, manifesto una mutazione. Guardate questo piccoletto. È davvero incazzato. Come procede? Qualcosa sta spaventando i mutanti. C'è qualcosa. Qualcosa di grosso al largo della costa. Professore. Professore, guardi. Santo cielo. Passiamo alla fase 2 del protocollo di sicurezza. Completare la chiusura. La stazione è stata attaccata da un enorme squalo gigante a tre teste. Potete aiutarci. Stiamo arrivando. Quella cosa può venirci a prendere ovunque. È come attratto dall'inquinamento della barca più grande. Gli serve acqua inquinata per sopravvivere. E allora come diavolo lo fermiamo? Al mio via, aprite il fuoco. Uccideremo quello squalo. Sta diventando più rabbioso, più violento. Madre dios. Ryan! Resistì! Sì!